Eh, stelle, stiamo seguendo Napoli e Empoli, ma non c'è voglia di guardare partiti. Stavo pensando, ma che i Gobbi abbiano 29 punti, è una cosa ultraterrena. E' una cosa ultraterrena, cioè, non lo so, è uno scherzo, è uno scherzo, una squadraccia come quella che ha 28 punti. E' ultraterrena sta cosa, non lo so, è una cosa, cioè, è una cosa magica. Poi sono quegli altri che, mamma mia, i campioni d'Europa lì, che adesso sono in crisi totale. Dai, venite fuori, venite fuori, dai, smettetela, dai. Dai, dai, non fate così, dai. Sì, ma ho capito, ma tu non è che puoi fare una partita che vici, pioli, ok, poi pareggi e pioli, vatele, e pioli, on fire, e pioli resta, e pioli, eh. Dai, 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 venite fuori da questi tombinelli, dai, su, dai, dai. Dai, dai, respirate l'aria, dai, siete sempre quelli delle sette Champions, i campioni del mondo, dai, dai, non fate in questo modo, stiamo anche male noi, vedervi in questo modo, capito? Stiamo male, capito? Ieri l'hai pareggiata, pensa se quel gol, com'era giusto, che era un gol nettissimo, l'avevi, cioè, capito? Il punticino te lo devi prendere sempre, capito? Sei come gli altri, quelli là hanno 29 punti, ma è una cosa aliena, è una cosa che viene dall'oltre spazio, capito? Non si sa come cazzo fanno ad avere 29 punti lì, capito? Eh, ma non dura sta cosa in questo modo, no, eh, vediamo, dopo c'è pure gas, vediamo il gas. Ma è fanno cool.